Siamo qui con Lorenzo Ludovici al suo rientro dopo il brutto infortunio di 5 mesi fa. Lorenzo, com'è andato questi primi minuti con la tua squadra? Beh, i primi minuti ero un po' agitato, un po' come sempre, avevo paura sulle entrate. Però dopo i primi minuti sono un po' smosso, ho cominciato a fare penetrazioni. Abbiamo portato a casa questa partita e quindi sono molto contento. Se guardiamo il risultato possiamo addirittura andare a vincere anche più di 20. Ma abbiamo vinto e sono contento. Sei ritornato con 7 punti al riferto. Cosa puoi dare adesso in questo finale di stagione alla tua squadra? Soprattutto la seconda fase, voglio dare il massimo per la mia squadra e tentare di essere campione regionale.